Con l'ultimo incontro si chiude definitivamente il capitolo della Betafense di Tortoreto, azienda da tempo al centro di discussioni lavorative. Nel corso dell'ultima riunione è stato firmato l'accordo che pone fine all'incertezza per 33 dipendenti, i quali hanno vissuto momenti di apprezzione riguardo al proprio futuro professionale. Dal 2020 che combattiamo con la Betafense, l'obiettivo era quello di accompagnare più gente possibile vicino alla pensione e su quell'obiettivo abbiamo fatto degli enormi passi avanti. È chiaro che ci sono alcuni lavoratori ancora in bilico e la speranza è che questi lavoratori, se si fanno avanti il più possibile persone pensionabili, ci sia una sorta di salvataggio di queste persone che non hanno un braga cadute. Abbiamo fatto il massimo, abbiamo fatto il possibile, abbiamo fatto degli accordi anche precedenti, migliorativi rispetto a quello che c'è sul panorama nazionale. Siamo riusciti anche a portare il 75% di integrazione sulla cassa integrazione. Purtroppo siamo arrivati al collo di bottiglia, gli ammortizzatori sociali sono finiti, faremo un anno di cassa integrazione per aree di crisi complessa, dopodiché la 223 verrà applicata con i criteri di non opposizione per chi se ne andrà con l'incentivazione. I sindacati esprimono soddisfazione per l'esito dell'accordo, pur senza definirlo una vittoria piena. Ciò che purtroppo è mancata è stata, se vogliamo, una formazione specifica per questi lavoratori. Quello che noi ieri all'Atere degli accordi abbiamo richiesto alla Regione di avviare immediatamente, innanzitutto, il percorso 5 del programma GOL, cioè la ricollocazione collettiva che prevede questo tipo di percorso, ma soprattutto di attivare il prima possibile, a seguito dell'orientamento fatto dal Centro per l'Impiego, che ringraziamo rispetto anche alle capacità e alle sensibilità che hanno potuto mettere su questi lavoratori, di avviare dei corsi di formazione specifici per consentire ai lavoratori, non soltanto Betafence, ma a tutti i lavoratori che si trovano in Naspio, che si trovano in cassa integrazione, di poter usufruire di corsi che fanno acquisire loro delle specifiche professionalità che in questo momento sono richieste dal mondo del lavoro.